Sempre più un'incognita la data certa delle primarie del centro-sinistra. Il PD regionale ha fatto slittare di nuovo le votazioni, al primo marzo questa volta, a causa della mancanza di schede in alcuni seggi elettorali di Benevento. Sull'argomento abbiamo ascoltato Gennaro Migliore, candidato del Partito Democratico, che con la sua discesa in campo all'ultimo momento aveva già determinato uno spostamento della data. Nel primo marzo ci confronteremo con i cittadini di questa regione per valutare quale debba essere il candidato più efficace per cambiare l'amministrazione di questa regione. Si tratta di fare un nuovo e profondo cambiamento rispetto a quello che c'è stato nel corso di questi anni. Il centro-sinistra non vince un'elezione importante, a parte l'elezione europea con Renzi dal 2006. L'ultima vittoria è stata quella e sono nove anni lunghissimi rispetto ai quali c'è bisogno davvero di aprire una pagina nuova. Ma si fanno queste primarie? Le primarie sono lo strumento che è stato deciso dalla direzione del partito, dall'assemblea regionale. Io sono candidato alle primarie, quindi per me si fanno sicuramente.